L'uomo ha una conoscenza determinata di sé, vuole vestirsi con eleganza nel pieno rispetto delle sue esigenze di gusto. Così anche i capi tradizionalmente sartoriari cambiano volto, le linee e i volumi si sottolineano, ma lasciano comunque spazio all'espressione della figura. Lo stile è puro, torna con una collezione dedicata allo sposo, Filippo La Fontana. Filippo La Fontana 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 Filippo La Fontana